Distribuzioni Linux per principianti 2023. In un panorama fin troppo ricco di scelte per chi cerca di avvicinarsi, è qualcuna delle più valide opzioni per scaricare un sistema operativo open source, preparare un supporto, provarlo e anche installarlo, da solo o a fianco di Windows. E spesso cominciare una nuova vita di libertà. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Da dove partire per provare seriamente Linux nel proprio PC? Secondo me dovresti partire dal mio video come orientarsi tra le distribuzioni Linux. Ci ho investito molto e spero possa fare chiarezza. Diciamo che oggi do per acquisite informazioni che trovi lì. Ritrovi l'argomento e non solo anche nel mio ebook un pinguino sulla scrivania. Per essere oggettivi non si può non partire da Ubuntu, il sistema operativo basato su Linux ad oggi forse più noto. Nasce nel 2004 su iniziativa dell'imprenditore sudafricano Mark Shuttleworth che fonda nell'isola di Man Canonical Ltd. Lo scopo di Ubuntu è sempre stato quello di fornire un accesso facilitato a Linux ad utenti che cercano un'alternativa al duopolio dei sistemi Microsoft ed Apple in computer fissi e portatili. Canonical vive di servizi, di soluzioni server e di dati di utilizzo, tra cui le attività nello store Snap. È una specie di versione più moderna di Red Hat. Ha ingaggiato fior di programmatori per lavorare sul codice open source di una storica distribuzione GNU Linux, Debian. Quello delle versioni non ancora stabili, secondo i rigidi canoni Debian. Ubuntu garantisce la presenza di utilità, di installazione e di sistema non presenti in Debian GNU Linux e la compatibilità con un catalogo sempre più ampio di programmi aggiornati e installabili gratuitamente con un click. Ubuntu riscuote sempre più successo a partire dal rilascio di Windows Vista e in primavera 2007. Prevede una edizione principale e altre cosiddette derivate. Sono una dozzina, ma si distinguono per l'aspetto, il cosiddetto ambiente desktop, cioè la gestione di finestre, e per alcuni programmi fondamentali che possono differire tra le edizioni. Sono praticamente tutte le varianti possibili di aspetto che oggi Linux offre per un computer. Canonical innova molto, ma compie anche qualche passo falso che non ha giovato ad Ubuntu. Ricorda che per usare un'edizione aggiornata di Ubuntu, dalla 20.04 in poi, servono un processore 2 GHz, meglio se dual-core, e non meno di 2 GB di RAM, meglio 4 per alcune varianti. Queste non supportano più architetture a 32 bit, ma solo a 64 bit. E così tutte le derivate ufficiali e non che usano una base Ubuntu. E mi raccomando, non usare un sistema operativo oltre il suo ciclo di vita perché è soggetto a problemi di sicurezza di pubblico dominio. Parlerò di distro a 32 bit in un prossimo video simile a questo, sulle soluzioni Linux veramente leggere, eppure a 32 bit. Hai un problema con una edizione di Ubuntu? Wiki, documentazione ufficiale, forum della comunità impareggiabile e in italiano, ovviamente sono impagabili. Fai attenzione alla versione che ti procuri in relazione alla durata del suo supporto. Ma è uno scherzo aggiornare il sistema a versioni successive, specie per le intermedie. Con estrema semplicità puoi pianificare tipi di aggiornamenti, relativi controlli e hai già fatto molto per la tua sicurezza online con Linux. La vera alternativa Windows e macOS la trovi con l'ambiente desktop GNOME adottato per la versione principale di Ubuntu. GNOME 43 fa bella mostra di sé nella versione 2210 di Ubuntu. Una barra per aprire menu e programmi di uso frequente, posizionata per impostazione predefinita sul lato sinistro. Si guadagna spazio in verticale. Un menu in cui cerchi programmi, impostazioni e file recenti a tutto schermo. Tantissime migliorie nell'aspetto al file manager Nautilus, le cui finestre sono progettate ora per adattarsi al meglio a qualsiasi risoluzione, nuove possibilità di ordinamento, funzioni di ricerca davvero raffinate e migliore fruibilità sotto tanti aspetti. La dotazione software predefinita di Ubuntu e di diverse sue derivate ufficiali include Firefox 106 e Thunderbird 102.3 per la posta e LibreOffice 7.4. Trovi poi Rhythmbox per la musica, Totem per i video, Remmina come client di desktop remoto, poi Cheese per l'accesso alla webcam, Shotwell per organizzare foto, qualche gioco e programmi e utilità immancabili. Una installazione piuttosto leggera che personalizzi installando nuovi programmi, gratuiti e in maggioranza open source. Ubuntu, oltre ai tradizionali repositories di pacchetti, ha infatti un suo store, Snap, con accesso ad una quantità di software aggiornato e testato di ogni genere. Quasi tutti open source, perché ci trovi anche programmi proprietari come Skype e Chrome per dire. Codec proprietari, ma gratuiti, per riprodurre qualunque formato audio o video senza più pensarci, si includono con un segno di spunta durante l'installazione. Così come i driver grafici proprietari Nvidia per sfruttarne l'accelerazione hardware per applicazioni video e 3D. Un click ed un riavvio per applicare differenti versioni di driver Nvidia. E ci sono sempre anche i driver open source, se Nvidia abbandona il supporto per la tua scheda. Ubuntu negli ultimi tempi compie un nuovo tentativo di introdurre una più moderna gestione di desktop e finestre abbracciando la tecnologia Wayland, in sostituzione della assai longeva tecnologia basata sul server X. Evoluzione, se non rivoluzione, che si sta affermando piano piano, ma che ancora porta con sé una serie di problemi per certe applicazioni. Un centro impostazioni sempre più ben fatto, articolato ma semplice, completa nel quadro. Se non apprezzi l'aspetto o l'impostazione grafica di Ubuntu e il tuo computer recente, prova Kubuntu. L'ambiente desktop plasma del team KDE è veramente all'avanguardia a livello grafico e viene aggiornato di continuo dal suo team. Non rimpiangi quello di Windows senza dubbio. Specie se vuoi trovare opzioni e personalizzazioni in quantità, una distribuzione con desktop KDE può valere la pena. Ho parlato degli ambienti desktop e di come installarne di supplementari, ma spiego anche le ragioni per cui non credo che valga provare così un ambiente desktop, a meno di non ritagliarsi l'installazione di un registro Linux nativamente con quello, se prevede un online installer. Tornando a Kubuntu, il team KDE, non meno del team dello storico progetto GNOME, sviluppa anche una lunga serie di programmi per la multimedialità, l'ufficio, la scienza e l'educazione apprezzatissime da tutti gli utenti Linux. I due gigabyte minimi di memoria RAM non sembrano però bastare. Il numero di condivisioni della immagine ISO di Kubuntu 2210 nei canali torrent dimostra che è la derivata ufficiale al momento più popolare di Ubuntu. Io nutro profonda simpatia, e l'ho detto più volte, per Ubuntu matè tra le derivate ufficiali. Ha la sua nicchia di utenti affezionatissimi. Mi piace l'aspetto, anzitutto anche se mi viene istintivo impostarlo su un tema in stile Windows. Ho simpatia per Martin Winpress, il responsabile del progetto, e per come gestisce la comunicazione. Circa l'aspetto Ubuntu matè dispone poi di uno strumento di personalizzazione grafica eccezionale. Puoi passare con un click da un aspetto simile a varie versioni di Windows a quello di un Mac, o a interfacce ottimizzate per schermi davvero piccoli. Uno strumento simile si trova nelle versioni a pagamento di Zorin OS, di cui parlo dopo. Ubuntu matè porta con sé il file manager, cioè il gestore grafico di file e cartelle Caja, apprezzato da sempre per leggerezza e efficienza, possibilità di personalizzazione ed espansione di funzioni. Ubuntu matè si adatta anche a computer meno recenti o dotati perché non ci sono effetti speciali preimpostati che richiedono potenza. L'aspetto però, così com'è, risulta già gradevole e altamente personalizzabile. Se non ti basta, cerca il pacchetto Compiz e scoprirai che livelli di personalizzazione puoi ottenere in un ambiente matè. La dotazione di software di Ubuntu matè è la medesima di quella principale, ma il suo store è molto rifinito e presenta solo una selezione dei migliori software. Sono corredati da una descrizione e da indicazione dei software per Windows che sono adatti a sostituire. Se non ti basta questa selezione, puoi installare il centro software di Ubuntu con i pacchetti Snap e Flatpak e la scelta diventa infinita. L'aspetto è assolutamente amichevole, anche frugando tra le impostazioni di sistema e varie opzioni di configurazione. Non è ostile, ma davvero accogliente, insomma. Se vuoi provare Linux in un computer non proprio fulmine di guerra, chiunque ti consiglierebbe, forse anche prima dell'edizione matè, Xubuntu con il suo desktop X-Face 4.16 ed il suo leggero ed espandibilissimo file manager tuner. Poi l'Ubuntu, ancora più leggero sulle caratteristiche del computer, basato sul sistema grafico desktop davvero minimo LXDE. Quelle citate sono le edizioni di Ubuntu più ricercate ad oggi. Ma per un compromesso valido tra aspetto gradevole e leggerezza, consiglio di provare l'edizione Bagi di Ubuntu. Da poco adottata nella famiglia delle derivate ufficiali, viene distribuita con l'ambiente desktop omonimo, leggero e gradevole e preso in prestito dalla distribuzione Solus. Infine, se non hai dimestichezza con Linux, ma ti occupi di grafica, fotografia, audio e video, e vuoi scoprire il meglio che Linux offra agli utilizzi professionali nelle applicazioni più complesse, allora segnalo Ubuntu Studio. Racchiude una quantità mostruosa di software e utilità per queste applicazioni. Fai un giro nel sito di Ubuntu Studio, potrebbe valere la pena scaricare una immagine ISO e preparare una chiavetta per provarlo. Dario, perché derivata da qualcosa e non originale? L'ho spiegato in come orientarsi tra le distribuzioni Linux. Riassumendo, ritengo che significhi garanzia di trovare comunque una distribuzione che non sparisce da un giorno all'altro, che privilegia affidabilità a lungo termine con il minimo di manutenzione e che offre un compromesso aduiguato tra stabilità e disponibilità di aggiornamenti o supporto per nuovo hardware. È vero che un esperto informatizzato finisce spesso per preferire l'approccio puro e non derivato, ma io parlo sempre e prima di tutto al principiante, che è composto di ultra sessantenni quanto di diciottenni e con cui non dare per scontata alcuna nozione. Non ritengo un approccio puro a Linux tra i più facili. È vero che oggi già dall'istruzione superiore ci si può avvicinare a Linux spesso in un ambiente puro, ma se non sei giovane e non studi informatica non penso vorresti dare un computer con arci a tua anzia. Anche nella recensione di Debian 11.1 con i miei consigli per superare alcuni ostacoli oggettivi vi faccio riferimento. Va riconosciuto che certi ostacoli con Ubuntu e derivate nel ramo Debian e in sistemi derivati come Mangiaro o Garuda per il ramo arci non ci sono. Sono stati semplificati anche per utenti che non siano sistemisti o esperti di Linux. E diciamo a voce forte che il famigerato terminale e la riga di comando nel 2023 non sono più indispensabili per mettere a punto un PC Linux e usarlo ordinariamente per fare di tutto. Non tutti quelli che desiderano Linux nel PC hanno l'età o l'inclinazione a dedicare al computer troppo tempo libero. Ma poi capita spesso che si prenda dimestichezza con alcuni comandi e si cominci a salvarli in un file di testo perché fanno cose favolose in un istante se le incolli in una finestra di terminale. Vado infatti a consigliare altre derivate non ufficiali di Ubuntu per le stesse ragioni e per le aggiunte o modifiche alla base di Ubuntu che esse apportano. Parto da Linux Mint, il mio sistema operativo principale da anni. Gli ho dedicato la maggior parte delle informazioni del canale e del blog. Ma non lo dico solo io che Linux Mint è tra le più adatte per un principiante assoluto di Linux. Nella stampa specializzata, anche internazionale, è facile trovare Linux Mint tra i consigli per i nuovi utenti. Stabilità, semplicità di installazione è messa in funzione e dispone già di tutti i programmi per soddisfare le esigenze più comuni. Tra cui anche software gratuiti, ma proprietari non open source per garantire la riproduzione di ogni tipo di file audio-video ed eventuali driver grafici per schede Nvidia. Le ho spiegate in chiusura della mia recensione di Linux Mint 20.2 e le ragioni della mia maggiore simpatia per Linux Mint. Ed ho già pubblicato un video di anteprima sulle maggiorità di Mint 21. Contraddistinguono Linux Mint anzitutto il suo ambiente desktop, Cinnamon, il principale. Perché ve ne sono altri due, adottati per le rispettive edizioni, Mate e DexFace, non meno apprezzate dai suoi utenti. Gli archivi dei programmi, della concomitante versione di Ubuntu e l'integrazione tramite i Flatpak di Flathab garantiscono la disponibilità di decine di migliaia di programmi in versioni anche aggiornatissime. Di Linux Mint esiste anche una edizione basata direttamente su Debian, LMDE. Ho scritto una recensione di LMDE 4, la versione precedente. Ora è supportata la versione 5, chiamata ELSI, che supporta architetture a 32 e 64 bit. La comunità degli utenti di Linux Mint è molto ampia e non inferiore a quella di Ubuntu. Su Linux Mint trovi informazioni in quantità online più in inglese ma anche in italiano e c'è una sezione del forum ufficiale in italiano. Porre una domanda lì significa avere tante persone che la leggono e ce n'è sicuramente qualcuna disposta a darti una dritta per risolvere. Tavolta rispondo a qualche domanda anche lì e lo frequento. Rare sono davvero le domande che non hanno risposta. Quello che ho apprezzato di Linux Mint sono anche alcuni programmi di contorno realizzati appositamente per tutte le edizioni. Con Hypnotics vedi in streaming decine di migliaia di TV in chiaro di tutto il mondo. Warpinator per condividere nella stessa rete file tra PC con Linux Mint, Windows e Android senza alcuna configurazione. C'è Pix, un ottimo programma di catalogazione di foto e fotoritocco di base che consente anche di modificare o rinominare molteplici immagini in un attimo. Procreare PDF o pagine web tramite procedure automatiche ben fatte. C'è infine Web App Manager che trasforma i siti web che usi di più in programmi con icone e finestre autonome per confondersi di meno con le schede aperte nel browser e avere icone specifiche da cliccare. Sto per pubblicare la mia recensione per Linux Mint 21.1 e non su Mint 21, perché la nuova edizione, oltre ad integrare la soluzione di difettucci di gioventù di Mint 21 rilasciata in estate 2022, è una profonda, inattesa novità anche per quanto riguarda l'aspetto della sua edizione di punta Cinnamon. È una prima risposta alla richiesta da parte degli utenti della sua comunità e non solo, di aggiornare l'aspetto ormai un po' vecchiotto, fuori moda e privo di attrattiva. La comunità degli utenti sottopone da sempre richieste di miglioramento e molte di esse vengono ascoltate e diventano parte del sistema. Linux Mint fornisce supporto e aggiornamenti per 5 anni per ogni versione e per gli aggiornamenti cosiddetti minori. Ogni due anni viene rilasciata una nuova versione maggiore. Lo strumento per passare ad una versione .1, .2 o .3 funziona perfettamente e quello per i passaggi più importanti, più complesso, funziona sempre meglio perché il team ne comprende l'importanza. Se hai un computer con massimo 10-12 anni di età e 3 o 4 GB di RAM, hai preferibilmente Intel Core i3, i5 o i7, garantisco che non ho mai avuto problemi con questa base . In ogni caso, verificare la compatibilità anche prima di installare è un vantaggio enorme. Conosci il mio video sul tema? MX Linux l'ho trascurata finora nei miei consigli sulle distribuzioni facili. Per questo ne parlo subito dopo Linux Mint. Lo meritano il progetto, non meno dei suoi soddisfattissimi numerosi utenti. La curiosità su questa distro è massima, da un paio di annetti almeno e non solo nel sito DistroWatch. Viene basata sulla concomitante versione stabile di Debian. La scelta dell'ambiente desktop preferito per la distro ricade su XFace, lo stesso di Xubuntu e dell'edizione XFace di Linux Mint, ad esempio. MX Linux 21.1.1 Wide Flower porta l'usabilità di funzioni avanzate di Linux ad un nuovo livello. Non tanto per il sistema guidato all'installazione o per la intuitività della schermata del suo menu di avvio live, cioè dalla chiavetta. Al di là dei pregi dell'ambiente XFace 4.16 contraddistinguono infatti questa distribuzione gli MX Tools. Una serie di strumenti appositamente realizzati che tramite finestre semplificano operazioni di amministrazione e configurazione di servizi e impostazioni che normalmente consistono in comandi via terminale o nella modifica di file testuali. Specie uno che di Linux ha un po' di dimestichezza lo capisce anche dalla dotazione software predefinita che ci sono gli strumenti tipici di chi vuole prendere pieno controllo di tutti gli aspetti di una workstation Linux. Senza però penalizzare l'utente meno esperto che può in un istante spostare la barra di menu e icone sul lato inferiore con un click e trovarsi a proprio agio in stile Windows. MX Tools è un coltellino svizzero di applicazioni Linux realizzato davvero con grande cura. Ma un altro punto molto forte di MX Linux è la grandezza del suo seguito e della sua comunità di utenti. Non inferiore a quella di Ubuntu o Linux Mint. La semplicità di accesso all'impostazione e personalizzazione di un sistema con X-Face assieme alle utilità citate stanno creando un grande flusso di utenti verso questa distroche a requisiti considerati di medio peso nella stessa presentazione del sistema operativo. Si tratta meno modestamente di un sistema molto leggero con cui si fanno tante cose anche con 2 GB di memoria RAM e un processore meglio se dual-core. Ma puoi anche optare per un più esigente ma scintillante desktop plasma, dal team KDE, lo stesso di Kubuntu. In entrambi i casi il sistema di applicazioni di driver proprietari di scheda Nvidia è integrato nel sistema. Anche su Zorin OS ho già fatto in passato apprezzamenti e recensioni. L'ultima è recente, recensione Zorin OS 16.2, una famiglia di OS Linux. E oggi ripeterò il minimo. Due giovanissimi fratelli realizzano una propria distribuzione Linux con parte di Ubuntu e fanno tanto lavoro di modifica dell'ambiente desktop GNOME. Obiettivo, un aspetto semplice, intuitivo, minimal, che sembra Windows ma che nella versione a pagamento prevede temi in stile Mac, Windows 11 ed altri. Oltre al servizio di assistenza personalizzato, che molte distro basate su progetti di comunità non offrono. Integrazione dello store Snap, dei programmi di Ubuntu e supporto per Flatpak per una scelta di software tra le più ampi. I fratelli Zorin hanno molto interesse a dimostrarti che il loro sistema operativo rispetta la tua privacy e non sei tracciato nell'utilizzo. Una versione di punta e una Lite, alleggerita modificando, nel medesimo stile, l'ambiente X-Face usato per questa edizione. Pronta già di tutto a fine installazione, con tanto di driver Nvidia e codec multimediali, e il sistema Wine per l'installazione di software per Windows che è già configurato e pronto a farti avviare un setup.exe o comunque un programma non troppo complesso destinato a Windows. L'utilità ZorinConnect, con una app Android, consente di scambiare file, ricevere notifiche sul desktop dal dispositivo mobile o usare quest'ultimo per controllare il computer. Una segnalazione ancora la merita la edizione Edu di Zorin OS, che prevede una distribuzione con lo stesso aspetto della principale e della Lite per le rispettive omonime edizioni. Cambia la dotazione software predefinita. In Zorin OS Educational sono raccolti i migliori programmi che Linux e l'open source possano vantare nel campo dell'educazione e dell'infanzia fino a livelli superiori di istruzione. Dalla chimica alla geografia, dall'algebra alla notazione musicale, dall'astronomia alla progettazione di dispositivi elettronici. Giochi di parole, quiz, puzzle, strumenti per stimolare la creatività e sviluppare la memoria. Prova l'edizione principale gratuita di Zorin OS Core in computer di una decina di anni al massimo e dovresti trovarti bene. Se è più vecchio o meno performante, scegli l'edizione Lite di Zorin OS. Deeping è una distribuzione basata sulla versione stabile di Debian. L'azienda che lo produce pubblica i sorgenti del proprio caratteristico e attrattivo ambiente desktop, DDE e di tanti altri dei programmi di sistema eccezionalmente curati. Browser, client di posta, file manager, visualizzatore di foto, di album, riproduttore, video e musicali. Sono appositamente realizzati, forse anche con codice riutilizzato, ma al sistema e alle sue app di contorno non manca già nulla. Anche se prevede LibreOffice che trovi installato nella versione non recentissima 7.0.4 per via della base Debian stabile. Debian adotta il nuovo sistema per la gestione del desktop, delle finestre e del loro contenuto Wayland. La stampa anche occidentale si chiede se non si è il nuovo anti-Ubuntu anche per attrattiva perché strizza l'occhio agli utenti Microsoft ed Apple. Ma anche Ubuntu ha una edizione ora basata su quello che il team di Ubuntu, DDE stesso, definisce il più bello ambiente desktop. In un attimo l'aspetto si adatta ad una visualizzazione Fashion in stile macOS con una dock sul lato inferiore dello schermo, oppure Efficient in stile Windows con menu e programmi e impostazioni che si apre con il bottone o il pulsante Start o Windows sulla tastiera. Molto intuitivo l'accesso a connessioni di rete, audio e altre funzioni essenziali. La provenienza è cinese e si tratta di azienda con scopo di lucro, ma lo spirito open source attorno a questa distribuzione non manca. Il sito web delle applicazioni è assai curato, senza fronzoli e gradevole. La cura del blog per seguire l'evoluzione del progetto è di tutto rispetto. Anche perché molte delle migliorie e innovazioni che sono continuamente apportate al sistema operativo sono effettuate in base agli apprezzamenti fatti dagli utenti. Con un forum in inglese e una comunità davvero attive e rassicuranti. Ogni rilascio e aggiornamento continuo delle versioni porta con sé novità sostanziosi. Dario, c'è da fidarsi? È cinese. Questo lo sai solo tu. Prendiamo Ubuntu. Anche in questo caso il progetto non nasce da una comunità, ma da un'azienda con scopo di lucro. Ma è molto open source se non per i meccanismi del suo store che sono proprietari in entrambi i casi. Guadagnano sui dati di utilizzo e su big data. Entrambi. Se usare la distribuzione di un'azienda dell'isola di Man o di altro luogo del mondo è per te fonte di maggiore tranquillità rispetto ad una cinese, già hai la tua scelta. In ogni caso ti ricordo che hai un telefono cinese con software americano ma chiuso. Come ho detto l'esperienza e la dimestichezza con Linux spinge talvolta a risalire la corrente delle distribuzioni derivate per scegliere un approccio puro. Debian resta per me un consiglio valido per la sua filosofia e per la quantità di documentazione in italiano. Impossibile non citare anche le storiche Fedora Workstation e OpenSUSE e Tumbleweed che attraggono moltissimi puristi con valide argomentazioni. A mio parere tutte queste distro però si rivolgono ad un'utenza piuttosto evoluta ed esigente, come le derivate ARCI che vado ad illustrare. Spesso sono rivolte a utenti che approcciano l'amministrazione da riga di comando o a programmatori che vogliono trovare un ambiente già adeguato allo sviluppo, ai test e all'integrazione del proprio lavoro negli archivi online di codice sorgente. Prendi una base ARCI, piuttosto ostica ma ritagliabile su misura. Una distribuzione rolling che adotta il sistema di installazione di pacchetti tipico delle distribuzioni riconducibili a Red Hat. Una distro in perenne fase di test, aggiornamento di funzioni, introduzione di supporto per nuovo hardware e nuove funzioni. I programmi Linux nelle versioni rilasciate anche durante la notte. La possibilità di caricare kernel anche freschissimi di rilascio. C'è il rischio teorico che improvvisamente scopri un problema e che tu debba affrontarlo con competenza adeguata per riparare l'installazione. Bug che appaiono dal nulla e possono scomparire rapidamente o anche senza che tu te ne accorda. Le rapide. Il luogo in cui la corrente dello sviluppo Linux è più forte e tutto corre molto veloce. Scelta interessante per un esperto informatico che voglia avvicinarsi a Linux e sfruttare al meglio il suo nuovo PC da urlo. Oppure ancora per scoprire nuove funzioni nel kernel e nei programmi prima degli altri. Ma in realtà molti scrivono di essere partiti da distro più facili, tra cui con certezza alcune di quelle che ho citato. Poi sono appraddati a mangiare OKD o X-Face e sono molto contenti. Altri mi scrivono di rotture in tutti i sensi, cioè problemi inadeguati a metterlo nel PC di tua zia o nel PC di un'aula di informatica in una scuola secondo alcuni. Mangiaro comunque da anni prevede un sistema di installazione semplice per costruire su misura l'installazione ed essere certo che l'hardware sia identificato e che i driver appropriati vengano scaricati e installati. Ma sono disponibili anche già molte edizioni dotate di differenti ambienti desktop. Sono preconfigurate in immagini live. Puoi avviare il sistema operativo temporaneamente caricandolo nella RAM per usarlo e verificare la compatibilità hardware prima di installare. Mangiaro usa quasi tutti i pacchetti di Arch Linux ma li verifica per alcuni giorni prima di metterli negli archivi come aggiornamenti e questo già garantisce minori rischi di problemi al sistema. La base Archie consente a Mangiaro di abilitare tra le fonti software del sistema il repository AUR. Si tratta di un repository gestito dalla comunità di Mangiaro. Permette di integrare nel sistema novità e aggiornamenti seguendo un ciclo molto rapido. E anche se molti pacchetti che finiscono nei repository ufficiali nascono spesso in AUR, un rovescio della medaglia c'è ed è descritto. Si tratta di una miriade di progetti anche individuali e non è possibile controllare tutto il codice che esegui nella tua macchina o impedire che ci siano conflitti o dipendenze difficilmente risolvibili. Inoltre, siccome il raffinato meccanismo di installazione, a differenza di ciò che avviene ad esempio in ambiente Debian, Ubuntu, etc., in cui i file sono già compilati e compressi, AUR li compila al volo dal codice sorgente disponibile dalla pagina web del progetto. Risolta quindi indispensabile avere dimestichezza con le procedure cosiddette di costruzione. E la procedura di costruzione richiede potenza della CPU e non sempre poco tempo. Per ovviare a questi tempi e potenza richieste puoi attivare anche gli archivi Chaotic AUR e ci trovi pacchetti precompilati. Si integra tra le fonti software e tra gli aggiornamenti anche il catalogo di Flatpak dell'archibio FlatHub. Di Flatpak parlo anche in verificare e installare programmi in Linux. L'ambiente prediletto per Mangiaro è quello KDE, orientato ovviamente, direi, a computer recenti e discretamente performanti. Non metterei Mangiaro nell'edizione KDE in un PC con meno di 4 GB di RAM e processore multicore. Ma Mangiaro non è un sistema operativo rivolto esclusivamente a computer costosi e sempre nuovi. tutt'altro. La quantità degli ambienti desktop anche leggeri con cui è rilasciato, tra cui X e Face, è vasto. C'è anche l'approccio minimo del Windows Manager i3 e una immagine docker per i più smaliziati, a completare le possibilità per un sistema rivolto ad architetture PC a 64 bit. Ma la base Arci e il lavoro svolto dal team consentono a Mangiaro di essere pronto per architetture ARM di smartphone e tablet o altri mini PC che adottino tali caratteristiche. Si moltiplicano le occasioni in cui Mangiaro fa notizia su dispositivi mobili. Ne ho parlato anche a proposito di smartphone e tablet Linux. Garuda Linux è un progetto molto recente ma che ritengo promettente ed interessante per cercare di strappare utenti a Windows. Base Arci, come Mangiaro, fornito con lo strumento di installazione usato anche da Debian e Alte Distro, Calamares. Si dichiara orientato alla performance e che sia rivolto ad un'utenza che vuole il pieno controllo sul proprio hardware si capisce anche dalle utilità appositamente sviluppate. Sono disponibili due edizioni. Entrambe sono definite dragonizzate. Si tratta di modifiche al desktop K di ePlasma, sfocato e personalizzato in modo unico. Lo stesso in entrambe. Una edizione prevede una base software predefinita di uso generale e una è ottimizzata per il gaming. Ma sono quasi tutti quelli esistenti gli ambienti desktop con cui è rilasciato Garuda Linux e pure con il Windows Manager i3. Garuda sfoggia un kernel zen, velocissimo, ottimizzato per desktop, multimedialità e giochi. Prevede Chaotic AOR come base per i propri pacchetti, a fianco comunque dei repository AOR ufficiali. Un'altra fondamentale caratteristica di Garuda riguarda l'aduzione dell'innovativo file system BRTFS e dota il sistema operativo di tutte le utilità necessarie per il controllo. Questa distro è rivolta ad un'utenza prevalentemente giovane, ma comunque esigente, che non intende sacrificare caratteristiche del proprio hardware e desidera un controllo completo su gestione di energia e performance. Segno distintivo di Garuda Linux è infatti il set di strumenti di manutenzione chiamato Garuda Assistant. Strumenti grafici per la gestione di software, aggiornamenti per la pulizia, il controllo diretto di periferiche e la gestione dei cosiddetti snapshot, che sono strategici secondo il team di Garuda per fornire adeguati meccanismi di riparo da problemi che possono nascere dall'antura rolling della base Archie. Garuda Setup Assistant consente di integrare al primo avvio una serie dei software più utilizzati suddivisi in categoria. Un elenco nudo per chi già li conosce e che semplifica l'applicazione di driver oltre che il completamento di installazioni con un solo applica. Diverso e più appagante è certamente sfogliare il suo store per integrare nuovi programmi. Ovviamente sono inclusi i driver grafici proprietari Nvidia applicabili in varie versioni tramite una finestra di controllo. Anche la scelta del browser attento alla privacy FireDragon si associa ad altri segni distintivi di questa distro che già nell'aspetto pare intonarsi con la scrivania di un vero animale notturno del PC. E infatti trovi anche Garuda Gamer. Nello modimo edizione sono già integrati ed accessibili, in un click da una sola finestra, i migliori strumenti per integrare in Linux, software e specialmente giochi destinati a Windows. Wine, Play on Linux, Wine Tricks, Q4Wine ed altre utilità di cui ho parlato nel tutorial programmi Windows in Linux Mint e Ubuntu con Wine. E ancora Steam, un accesso privilegiato a Proton e gli strumenti di configurazione di periferiche di gaming. Se non sapevi che Steam è rilasciato anche per Linux con la funzione Steam Play per giocare titoli Windows, che Valve rilascia SteamOS basato su Linux e che la nuova console Steam Deck ha un sistema operativo basato su Linux, potresti non essere molto aggiornato sul gaming in Linux. In direzione simile, cioè verso una migliore integrazione di Linux con Windows, si muovono anche il promettente progetto ReactOS e secondo molti anche LinuxFX. Queste sono le mie segnalazioni aggiornate per provare Linux. Sono anche dettate da criteri e gusti personali, anche se desideravo fornire uno scenario condivisibile da più esperti. Sta per arrivare la mia recensione di Linux Mint 21.1 e anche un video sulle distribuzioni più leggere. Ma tante informazioni per provare Linux, superare i primi ostacoli e guide passo passo per installare Linux, configurarlo e sfruttarlo in tanti modi sono già disponibili qui nel canale YouTube e nel mio blog, oltre che nei miei testi. Spero che tu possa apprezzare, ti ringrazio e ti rimando al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!